strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano ben trovati da giulio gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di strategia digitale ripartiamo alla grande con una nuova settimana e sono molto contento perché oggi parleremo di un tema che per molti è totalmente oscuro vi dico com'è nata l'idea stavo con i miei studenti di seo utilizzando seo zoom un tool per lo studio e l'ottimizzazione per i motori di ricerca e mentre lavoravamo così stavo utilizzando you media web e strategia digitale proprio come un sito d'esempio per spiegare come funzionava il tool è uscito fuori che c'è tantissimo interesse su linkedin tantissime persone si domandano ma linkedin funziona già in passato avevo parlato di linkedin e del suo utilizzo per trovare lavoro ma vedo che molti non riescono proprio a capire ma chi mi serve questo linkedin ma come funziona ma come ci si deve comportare ma mi serve o non mi serve è qualcosa che va bene solo per chi lavora in contesti internazionali o può far comodo anche a me che vendo le mozzarella nella provincia di caserta ecco cercherò di rispondere un attimino a tutte queste domande insieme a voi scoprendo linkedin come funziona ma prima voglio ricordarvi che strategia digitale punto info è il nostro punto di ritrovo online per tutto ciò che ha a che fare con la strategia digitale con il nostro podcast abbiamo da poco fatto un revamp di strategia digitale punto info quindi ci trovate il link per scaricare l'applicazione ufficiale ci trovate la possibilità di mandarmi domande dirette di scaricare le vecchie puntate di vedere tutti i souvenir digitali insomma ragazzi c'è veramente di tutto una pagina infinita e ci trovate mille collegamenti ad altre cose per voi interessante quindi se ci siete già stati mandateci uno dei vostri amici e magari gli fate un bel regalo uno strumento in più per sviluppare la sua strategia digitale ma ora bando alle ciance è arrivato il momento di tuffarci nel tema di oggi e scoprire insieme ma linkedin come funziona questa domanda se la fanno in tantissimi e il motivo per cui secondo me linkedin non è tanto compreso in italia è che un pochino ci manca la cultura del networking una cultura sana della relazione come strumento umano di crescita del business siamo soprattutto negli ultimi anni poi parlo per me io vengo da un ambiente totalmente staccato dal business ho studiato lettere storia dell'arte quindi quando sono arrivato nel mondo della comunicazione online vedere un pochino come funzionava il discorso del business delle vendite del marketing per me era tutta una scoperta devo dire che però ho notato del nell'ambiente italiano rispetto a quello internazionale uno sbilanciamento verso gli aspetti potremmo dire più marchettari del termine che cosa voglio dire sono tutti focalizzati su come faccio a vendere ad acquisire contatti a portare a casa nuovi clienti mentre non c'è la cognizione di come ogni relazione dalle chiacchiere che scambi con il panettiere sotto casa fino al papà delle amichette delle tue bambine fino ancora alle persone ai competitor cosiddetti alle persone che magari fanno il tuo stesso lavoro che incontri in contesti dove fate parte di fronti avversari tutti i contatti si possono trasformare anzi sono potenzialmente interessanti dal punto di vista business a me è capitato per esempio in contesti dove dall'altra parte magari con in una situazione in cui c'erano più agenzie in competizione tra loro dall'altra parte avevo persone che facevano il mio stesso lavoro con le quali però ho avuto modo di scambiare il mio punto di vista e scambiarmi i contatti bene anni dopo mi sono visto contattare dalle stesse persone magari per fare un lavoro insieme e allora è importante capire per inquadrare LinkedIn per capire come funziona definire questa importanza della creazione di un network cioè nella solidità del nostro business ci sta per esempio l'essere ordinati dei nostri conti della nostra posizione fiscale non posso fare un business solido se poi nel mio bilancio è tutto incasinato non posso fare un business solido se non ho una sede un luogo di lavoro pulito curato e funzionante che mi consente di lavorare in tranquillità senza avere la connessione internet che mi casca ogni tre per due e poi dallo stesso punto di vista non posso far crescere un business in maniera solida se non ho una rete di relazioni clienti fornitori partner che ho sviluppato nel tempo dieci anni fa mi ricordo che avevo poche relazioni oggi qualsiasi cosa di cui ho bisogno dal punto di vista professionale in una telefonata me la riesco a procurare qual è la differenza tra dieci anni fa e oggi è semplicemente la rete di relazioni è il business network allora cerchiamo di capire LinkedIn come funziona nei termini del business networking prima di tutto fondamentalmente LinkedIn ti offre attraverso la creazione di un profilo su LinkedIn la possibilità di dichiarare al mondo chi sei compreso che faccia hai attraverso la tua fotoprofilo dove lavori dove hai lavorato in passato dove studi o dove hai studiato dove ti sei formato quali sono state le tue esperienze che cosa realmente sai fare cioè al di là del fatto che hai fatto l'università di Pinco Pallo ma tu in che cosa sei bravo quindi quali sono le tue skill con quali persone con chi lavori o con chi hai lavorato in passato e cosa queste persone pensano di te e poi in che modo puoi portare valore al mondo del lavoro questo ultimo aspetto è racchiuso non tanto nel profilo ma nella possibilità di includere nel profilo dei contenuti che tu hai pubblicato su LinkedIn o anche al di fuori dei media perché oggi secondo me la vera differenza nel mondo del lavoro la fa non chi sa fare x o y ma chi sa portare valore facendo x o y e anche z la capacità di portare reale valore di andare oltre di metterci passione oltre alla competenza è quello che per me crea una differenza nella scelta dei partner dei collaboratori delle persone con le quali lavorare e LinkedIn ti dà la possibilità di mettere in esposizione questo valore che porti fuori e allora il primo il primo strumento che puoi utilizzare attraverso LinkedIn la prima esigenza che LinkedIn va a soddisfare è quella di creare un curriculum vite dinamico e sociale cioè se io vado sul tuo profilo LinkedIn ho una prospettiva su chi sei su dove lavori su dove studiato su cosa sai fare veramente molto più ricca rispetto al curriculum vite ma in maniera analoga al curriculum vite ordinata e strutturata in maniera standard cosa che mi rende possibile confrontarti con magari se sto cercando un collaboratore con un altro collaboratore o se sto cercando un partner o un fornitore posso mettervi sullo stesso piano perché le loro informazioni sono organizzate in maniera coerente la cosa però carina è che questo curriculum vite lo puoi anche esportare perché magari qualcuno potrebbe dire godiano io mica lavoro con la gente dei new media io ho bisogno della carta glielo devo portare stampato il curriculum non c'è nessunissimo problema all'interno di LinkedIn c'è una funzione di export quindi potete cercare su Google come esportare curriculum vite da LinkedIn c'è un tasto che ti permette di scaricare in pdf tutte le informazioni del tuo profilo LinkedIn dentro il tuo computer quindi vengono trasformate le informazioni in un pdf il pdf lo puoi tranquillamente stampare così ha il curriculum vite sempre pronto e aggiornato e questo è un altro aspetto ricollegandomi a quello che dicevo che ci permette di fare LinkedIn molto importante perché una cosa che non posso sopportare è quando magari hai bisogno di un collaboratore e quello ti dice sì Gaudiano però devo un attimo prendermi un paio di giorni per aggiornare il curriculum vite servono due giorni per aggiornare il curriculum ti serve del tempo per aggiornare il curriculum il tuo curriculum deve essere sempre aggiornato in questo caso la possibilità di essere dinamico di LinkedIn la possibilità di aggiungere nuove esperienze professionali i nuovi progetti quasi con un processo di gamification per cui LinkedIn stesso ti chiede le informazioni una a una non ti fa compilare un form gigante ti chiede singole informazioni su quello che stai facendo in quel momento questo ti aiuta molto un'altra cosa che ti aiuta molto è la possibilità di chiedere delle raccomandazioni delle referenze agli altri quando concludi un lavoro o quando stai lavorando con qualcuno e lavorate bene insieme gli puoi mandare attraverso LinkedIn attraverso la sezione raccomandazioni una richiesta di raccomandazione cioè la possibilità un testimonial potrebbero dire alcuni la possibilità di esprimere su di te dal punto di vista professionale un parere tutte queste informazioni con un click nel momento in cui esporti il curriculum vite sono racchiuse all'interno del curriculum vite e puoi scegliere tu quando una persona fa una segnalazione nei tuoi confronti una raccomandazione puoi scegliere tu se includerla nel tuo profilo e dargli visibilità oppure lasciarla lì da parte perché magari sono state dette delle cose di te che non ti va di condividere o non sono stati messi in luce gli aspetti che a te interessano quindi numero uno LinkedIn è il miglior curriculum vite che possa esistere sia nella versione online che nella versione offline esportata in PDF numero due LinkedIn funziona e serve a fare networking in che modo vi dico proprio come lo utilizzo io numero uno argomento di conversazione quante volte è difficile trovare l'argomento di cui parlare in un evento di networking o quando stai in una situazione sociale persino al matrimonio di tuo cugino no ti siedi con le persone a piacere ciao Giulio non sapete che cosa dirvi io in quel caso apro LinkedIn cerco il nome della persona e LinkedIn mostra le persone alle quali sia io che il mio interlocutore siamo connessi e allora diventa un gioco diventa divertente allora magari siamo io e te e l'apriamo ma pure tu conosci Mario Rossi ma sì Mario ah che forza Simona sai io e Mario giocavamo a calcetto insieme non mi dire pensa che io invece andavo a scuola con Mario ecco diventa subito argomento di conversazione e anche sei aiutato a capire la persona che è davanti attraverso le persone che avete in comune perché se avete tutte connessioni di colleghi che tu reputi poco etici mettiamo oppure ossessionati da un aspetto specifico del lavoro ossessionati alla vita lavorativa workaholic come si direbbe dipendenti dal lavoro sai che probabilmente la persona che è davanti condivide con loro questa tendenza magari ma anche sempre per fare networking ti serve LinkedIn e funziona molto bene per pianificare gli incontri quando fai un viaggio di lavoro per esempio attraverso la ricerca di LinkedIn puoi dirgli LinkedIn mi fai vedere tutti quelli che sono nella mia rete che abitano a Bologna e che sono connessi a me in maniera diretta magari se hai tante connessioni puoi anche selezionare solo coloro che lavorano nel nelle vendite e così puoi vedere le persone e mandargli un messaggio direttamente dicendo ci vogliamo prendere un caffè perché sarò a Bologna tutta la giornata e poi organizzarti degli appuntamenti addirittura io ci organizzo degli aperitivi cioè quando sono in orario aperitivo in una città decido di mandare un messaggio a tutti quelli che ci sono e dirgli guarda organizza un aperitivo allora x nel posto y ti va di venire ci saranno anche delle altre persone in questo modo in un solo aperitivo posso incontrare più persone contemporaneamente la terza cosa che puoi fare con LinkedIn è creare pubblicare un blog allora ci sono delle piattaforme di blogging gratuito tipo blogger o wordpress ma LinkedIn ha una sua piattaforma interna di blogging la ritrovi semplicemente andando nella home e cliccando su scrivi un articolo e questa piattaforma di blogging cosiddetta LinkedIn publisher è indicizzata da Google ed è completamente aperta quindi ti assicura che l'articolo che vuoi condividere il post che vuoi pubblicare sarà indicizzato da Google e potranno capitarci persone che non ti conoscono quindi può essere una buona iniziativa di content marketing in più le statistiche e le informazioni che hai su coloro che interagiscono col tuo articolo sono molto più ricche che quelle del tuo blog non devi andare a installare analytics ma LinkedIn ti dice il tuo articolo è stato visto da 52 persone che lavorano nel settore del non lo so del retail ok quindi ti dà delle informazioni anche sul lavoro che fanno le persone ma anche se queste persone lasciano un mi piace un commento tu ti puoi direttamente connettere con loro clicchi sulla loro faccia e clicchi connetti dicendo ho visto che hai commentato questo mio articolo ti va di rimanere in contatto e quindi vi potete connettere e qui arrivo direttamente a un terzo punto che è la lead generation LinkedIn funziona per fare lead generation che cosa è la lead generation è l'acquisizione di contatti di persone che mi interessano perché possono essere magari potenziali clienti come si fa di solito si fa creando un contenuto di valore magari distribuito attraverso un blog per cui ti scarica di questo pdf o scarica di questo video lasciandomi la tua email in modo che ti possa ricontattare benissimo LinkedIn ti permette di fare la stessa cosa con tutti coloro che interagiscono con te con i tuoi contenuti con i contenuti dei tuoi contatti qualsiasi persona tu puoi aggiungere a LinkedIn quella persona di quella persona avrai l'email non so se lo sapevi ma puoi cercare esportare i contatti LinkedIn e LinkedIn ti permette di esportare gli indirizzi email in un file csv apribile con excel di tutti coloro che fanno parte del tuo business network lo ripeto nel caso non fosse chiaro di tutti quelli che sono a te connessi su LinkedIn che fanno parte del tuo business network puoi avere le loro email dirette in modo da mantenere un contatto con loro anche al di fuori di LinkedIn e infine LinkedIn come funziona per fare da elenco telefonico per contattare persone delle quali non hai il numero delle quali non hai il contatto io organizzo tantissime interviste come sai bene e per organizzare queste interviste non sempre ho il contatto della persona che mi serve come faccio a contattare Federico Pistono penso a lui perché l'ho proprio contattato tramite LinkedIn per intervistarlo sul suo libro vado su LinkedIn cerco il suo nome vedo che sia lui gli mando un bel messaggio con una richiesta di connessione se non ho LinkedIn premium oppure direttamente un messaggio diretto se ho LinkedIn premium e LinkedIn gli manderà nel caso lui abbia le i setting di base le impostazioni di base ma la maggior parte delle persone lo hanno gli manderà direttamente un email dicendo Giulio ti ha aggiunto alla sua rete di contatti dicendoti questo oppure Giulio ti ha mandato un messaggio dicendoti questo gli arriverà un email io non vedo la sua email ma sono in grado di mandargli un messaggio questo messaggio che gli arriverà mi permetterà di contattarlo direttamente e nel frattempo potrò anche vedere persone che sono connesse con me e con lui e quindi chiedere contattare direttamente questi contatti comuni ma come ho fatto io nel caso di Federico che non mi ha risposto subito tramite LinkedIn ho visto che avevamo come comune amico Luca la mesa ho alzato il telefono ho parlato con Luca ho detto Luca per favore mi metti in contatto con Federico e Luca l'ha fatto in 4 e 4 8 siamo arrivati alla fine della nostra puntata spero di averti dato delle idee informazioni utili che possono essere subito tradotte in pratica per capire come funziona LinkedIn come lo puoi utilizzare per il tuo business e io voglio ringraziare di cuore i produttori di strategia digitale chi sono sono coloro che partecipano alla creazione di questo podcast sono più di 100 persone che finanziano il podcast e lo finanziano non solo economicamente ma anche con le loro idee con le loro domande con le loro segnalazioni i loro contributi veramente ragazzi grazie 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 siete il il carburante che manda avanti strategia digitale un grazie quindi a tutti i produttori ma anche Audra Bertolone coautrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano